E noi lo sappiamo perché ciò che abbiamo negli anni. Ho in palestra, mia cognata mi ha chiamata d'urgenza, tra l'altro mi ha avuto un colpo e ho detto cosa sarà successo e ho detto è crollata la strada. Il palazzo l'hanno fatto sgombrare e di corsa, la palestra qui a Via Damiano Chiesa, sono arrivata qua e ho trovato questa situazione. Comunque è una situazione che noi abbiamo denunciato da mesi, sin dall'inizio dei lavori, che sono iniziati a settembre quando hanno demolito il complesso di Santa Maria degli Angeli. Quindi non può capire, a parte esalazioni di polveri, ma i rumori. Il palazzo praticamente vibrava perché hanno dovuto abbattere tutto, rumori. Non hanno rispettato orari, iniziano a lavorare alle sei e mezza la mattina, già sono al lavoro. Recentemente fino a mezzanotte per una gettata di cemento, hanno rotto tubature, da sempre l'abbiamo. Questa è veramente la cronaca di un disastro annunciato. E oggi siamo qua, io ho una bambina di tre mesi, non ho nessun posto dove andare, alle cinque e mezza è successo, adesso sono alle sette e mezza e nessuno ci dà una risposta. Sì, adesso fa l'anno.